Musica Faremo un poco sprigionare i glutine che sottiene la farina. Poi vediamo man mano, aggiungiamo al limite un po' di acqua o prendiamo un altro uovo, lo sbattiamone, aggiungiamo un pochino. Poi metto un pizzico di sale, mettiamo un po' di olio, cominciamo a impastare. Musica 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 Dobbiamo piano così e la tiriamo, vedete che si allunga? Vedete che si allunga? Musica 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 Grazie a tutti.